Il prete appena diventato prete un curato abbiamo andato in Varseliana, un paesino del cacchio, arriva al sud, però lui va sempre con tutto entusiasmo, curato, 24 anni, riuscì con un paese tutto di vecchio, riuscì all'accesa tutta storta, campanelli storini, urco, vissi di apolo, al Valderfo ha tutti i banchi rotti, pur duro, urco, vabbè però poi vanno a trovare, vanno a farsi con i parrucchiani, entra nella prima casa, entra, io sono un nuovo curato, Don Gianni, certo che la Cesare ha la propria immettina macchina, la Cesare, ma che vai staci Don Gianni, però chi nel paese abita in una contessa, in fondo al paese è una contessa, è una bella villa antica col parco, vabbè riuscì a fare, salve, sono nuovo curato, sono qua per conoscere i miei parrucchiani e però ce l'ha chiusa, che mi è distrutta, mi hanno detto che l'unica che può darmi una mano è lei, ho visto, ah sì, osti, lei pede da 6 mila euro, osti, 6 mila euro, osti, 6 mila euro, vabbè, grazie, però senta, io dovrei chiederle un favore, io sono anziana, l'unica cosa che ho è il mio cagnolino, come Bobbi, molto affezionato, come Bobbi, lei dovrebbe farmi una cosa, laves de battesame, assolutamente, per mia, no, mi dispiace, per mia, per mia, per mia, fare un altro genere, che è il mio prete nuovo, ma poi lei deve farmi, mi dispiace, va, ora non le posso dare 5 mila euro, no, 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 non possono, vabbè, sta per andare, Don Gianni, 10 mila euro, no, 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 per mia, per mia, laura, che non è per mia, a fare, a certo punto questo qui va, e il Vaffa ha un paio di preventivi, preventivo per mettere al posto della chiesa 30 mila euro, e di dopo la riasomma la contessa la santa, la riasò che fa, Don Gianni, la mia proposta? No, 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 assolutamente, per mia, a fare, assolutamente, sì, ma perché sono disposto a riarlo qui in Desmela, qui in Desmela non mi darei, hai una metà di spese, perché quant'è le spese? 30 mila euro, però assolutamente, per mia, a fare, assolutamente, Don Gianni, Don Gianni, tira fuori a sé, 30, no, 30 simmela euro, 30 simmela, che se dopo che mi ha giustato sulla città non fai una festa a fuochi artificiali, e che è tutto che fa, e dai, per una buona causa, vabbè, però la vostra contessa, bisogna che la sabbia è nì, e lei è andato una mattina, e lei è andato una mattina, e lei è andato, ma che adesso è nì, e lei è andato una mattina, ha mattesa il cane, Bobby, ha scoperto la mattina, del mantella, ha mattato il capo, la via, ha scoperto il mantella, e a un certo punto, ha incontrato uno del paese, fa, cosa fa, sai, sai, questo come mai, non si è contento a contestare, e sto troppo a contestare, avevo una bambina, sto troppo a contestare, ho don Gianni, però cosa dico la nì, ha fatto un po' di bobi, però adesso è nì, no, assolutamente, a un certo punto però, il paesino, che diceva questo, che diceva che notte, e a saltare il paese in base, arriva la curia, e la curia, e la uso, parto il pesco, fa il pesco, fa il pesco, fa il pesco, fa il pesco, salve Don Gianni, tutto bene? Sento a controllare, se non è tutto bene, la uso, ma tutto bene? Sì, sì, tutto bene, siamo sicuri? Tranquilli? Sì, sì, tranquilli, no, perché mi è arrivato una us, però, ha la crede mia, lei è un prete, non può mentire, no, tutto a posto, tutto a posto, no, ma se non è arrivato una us che, in quella cese che, stai battezzato il cagno, mi raccomando, se adesso, me lo faccio, effettivamente lo fai per la giusta causa, perché non è che sto via, che, 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 la cese, campanile senza campagna, l'orologo senza lancetta, i bambi, il signore lasciò e sto sull'altra, che, a me cosa vanno a fare? No, 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 cosa gravissima, è gravissima, è per me, è per me, è per me, che è, se io, no, no, è per me, fa maldita di capirmi, che suoni, con entusiasmo, è se, no, 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 è se io salto al Vaticano, mi ha comunicato a Dioce, e se, no, 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 spiegati, ma andare a capirmi, va bene, questa volta, la passa in liscia, però, te lo dice il tuo vescovo, due cose, primo, assolutamente, non deve più succedere, secondo, quando il bambi cae fa prima come in io, manda me in gioco, Grazie per la visione!